Me l'hanno passata i miei fratelli quando avevo 16 anni. Oh, ma che carini! No, non tanto. Congratulazioni. Ora la fiero è tua. Solo se passerai la prova finale. Ma come un'altra? Mi sono già depilato le gambe e ho ingoiato 5 dollari in centesimi e ne sono usciti solo 4 e mezzo. Devi solo andare al Weiner Burger e portarci 12 caffè. E nient'altro? Nient'altro. Però vestito come ti diremo noi. Allora ci sto. Altro che se ci sto. Tu sei nudo. Me ne sono accorto. Mezzo dollaro ce l'hai? Non sotto mano. Ora posso avere i caffè, per favore? Spiacente, abbiamo finito vassoie e coperchi. Poco fa sono venuti due spilungoni e li hanno comprati tutti. Da qui la sua assurda regola per cui sulla fiero sono vietati cibo, bevande e persino la fiera. Senti, non è affatto assurda.